Nell'alta Padovana si irrigano con l'acqua a scorrimento anche i prati stabili, fatto inusuale in questo periodo. I tecnici di Coldiretti Veneto hanno lanciato l'allarme siccità segnalando le prime irrigazioni di soccorso a Padova e anche in provincia di Vicenza. Un marzo particolarmente asciutto e nessuna previsione di pioggia per i prossimi giorni inducono gli agricoltori a bagnare i campi di mais, frumento e barbabietole affinché le piantine seminate germoglino. Ci troviamo in un terreno che molto probabilmente non produrrà grano e quindi pane per tutti noi. Qui non si può irrigare perché non c'è l'inrigazione, non c'è la possibilità di irrigare e se guardate questa è polvere, non è terra, questa è polvere. Una situazione anomala da ricondurre ai cambiamenti climatici spiegano alla Coldiretti. Dove si può intervenire? Le buone prassi agricole lo consigliano, gli imprenditori azionano le pompe ma ci sono aree che non sono servite dal sistema consortile e l'irrigazione ha dei costi che vanno a incidere sempre sulla redditività delle aziende già messe a dura prova in queste settimane dall'emergenza coronavirus. Ecco perché la Coldiretti chiede un piano Marshall per il settore primario per permettere ai contadini di continuare a lavorare la terra e a produrre cibo.